Ehi, becca! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Vieni, vieni! Happy birthday, amore! Ciao a tutti gli amici! Ehi, ora sto andando in centro per comprare di regalo per cumpleano di mia moglie, anche lì già mi aspettano i miei suoceri, perché andiamo a comprare il regalo insieme, spero le piaccia. Ok, guys, biasanya aku kalo kemana-mana pasti naik sepeda, karena praktis, biasanya aku naik sepeda ini, sepeda public, yang sudah disediakan di Kota Bilang. Ehm, electric atau gas, ok, coba, ehm, pilihkan kartu aku, aku ga bisa sih, aduh, 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 coba lagi. Ok, kita pilih yang electric, ok, nomor 6. Aku suka yang electric, karena goesnya ga capek. So, let's go! Let's go to city center. With this electric bike. Let's go! Let's go to city center. Let's go to city centerкой. Remember here! Let's go to city center Aisha, it's a city training center, right? See wr increase, 이젠 to city center. All right, let's go to city center. And I'll see you in relax at the back of the city center. Go to city center mountain desapare Pickworm. With this electric bike coming home LP and resources to Mallicle. E adesso siamo qua con papà e mamma, i miei socceri, papà Giorgio, mamma, matrizia, perché è difficile. Sì, sì, è parenti di mia moglie. Allora, adesso andiamo a comprare regali per Anna perché è il compleanno di Anna, quindi voglio un amico fare qualcosa di bello. Dai! Già comprato, abbiamo comprato, cosa mamma? Questo regalo di Gucci perché mia moglie piace moltissimo questo roba di Gucci. Quindi una bella sorpresa per lei. Giusto mamma? Giusto papà? Sì, era quello che lei voleva. Sì, sì. Quindi anche la carta. Bene. Dai, sorpresa domani. No, dopo domani. Eh sì. Ok, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno, buona mattina, buona mattina. Allora, adesso io voglio fare una sorpresa alla mia moglie. Sta dormendo, sta dormendo. E quindi con questa tortellina. Ecco. Dai, andiamo per fare sorpresa alla mia moglie. Ok ragazzi, andiamo perché oggi è il suo compleanno. Quindi facciamo una sorpresa alla mia moglie. Sta dormendo. Dai, andiamo. Eccola, 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 eccola. Amore, Anna, baby, wake up. Wake up. Wake up. Hey, wake up. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, amore. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Adai, blow the candle. My desiderio? Sì. Happy birthday. Yeah. Happy birthday, amore mio. My wife, mi amor. Yeah. Grazie. Terima kasih. Huh? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mi amico anche parla indonesiana. Bisa becara in bahasa indonesia juga. Yeah. Quindi, amore. Grazie. Allora, sei pronta per stasera? Sì. Sì. Are you ready? Sì. Buon festa? Sì, per il cena. Per la cena oggi? Sì. Con... Con la famiglia. Famiglia. Parenti tutti, no? Tutti, sì. Sì. Eh, la festa ragazzi, la festa oggi. Allora... Are you shy? Malu, abis bangun tidur. Malu-malu. I love you too. I love you too. I love you too. Allora ragazzi. E quindi? 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 Non ci regali, eh? Ah, è vero. Dov'è il mio regalo? E qui? Ebbante il mio regalo? Due alcoba mi regalo. I forgot, lega. Alcoba, gently, tau alcoba. I dim promote. È già arrivissera. Ticchielo mio regalo? Since last night, gue asked to you how is my gift Kumagô? Do' mani, dai. Andiamo. andiamo 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 ciao eccoci ok, adesso stiamo andando per la festa non è un po' questa non è un po' mangiare ahah anche con i parenti no? si, con mamma, papà anche i cugini e un po' un po' festa ecco, quindi andiamo 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 ah, siete tutti già qua? ciao ciao a tutti mamma mia eccoci qua eccoci qua ciao ciao papà Giorgio ciao mamma il tavolo già pronto ragazzi ecco Isma anche lei è indonesiana fidanzata di Lorenzo fratello di Anna e lui Lorenzo è caldo siamo pronti siamo pronti siamo pronti ragazzi si mangiamo questo è salami adesso siamo preparando per aperitivo per aperitivo guarda guarda che roba molto importante ah iya, ini paling penting guys cabe, sambal non c'è non c'è non c'è da Sandra ah da Sandra ok da Sandra cinesi qui sambal allora ragazzi volete vedere qualcosa di bello eccolo ecco la cosa di bello il mio quadro quando ho vinto together now spero che c'è un'altra quadro dopo happy birthday Anna tanti auguri ante tanti auguri Anna tanti auguri ante cheeees happy birthday Anna ciao Ilaria ciao Fabio ciao ciao ok allora auguri Anna auguri Anna auguri 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 Giorgio ole evviva evviva brava grazie grazie auguri 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 complimenti complimenti a tutti complimenti alla mamma mamma ok ragazzi dai andiamo per siete pronti papà mamma dai andiamo 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 papà andiamo dai ecco 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 tanti auguri a te tanti auguri tanti auguri tanti auguri ad Anna tanti auguri a te grazie grazie brava che ti fanno lì è proprio non giudicare dall'abbigliamento sì lo so vedi ti piace soprattutto per il mercato asiatico di solito più uno vestito di merda è più paga questo è per il mercato questo è per il mercato guarda anche lei con il mercato posso mi sorprendere? non accendo il riscaldamento ok la carne è su da Marana la stella è quasi adegna non c'è un compleanno amore grazie baby quindi ragazzi grazie per avermi guardato ci vediamo presto see you again nel next video mettete un p'aleghi di il vlog bricodine a tutti ciao salutare ciao ci vediamo see you again nel next video